Valeria non hai capito? La Gaia sta da sola oggi perché è in punizione. Come mai mamma? Ha fatto una brutta cosa con la maestra Edvige e allora oggi pomeriggio Gaia resterà in punizione con la mamma quindi non guarda i cartoni, non avrà cioccolatini, non avrà caramelli. E che? Ma cosa ha combinato? Eh ha risposto male a una delle maestre, però siccome in genere la Gaia non si... a Edvige, siccome Gaia in genere non si comporta così la mamma vuole che capisca di aver fatto una cosa brutta. Ha tirato la ciabattona. Ma cosa dici? Ma lei? Sì, ti sono andato due cartoni le iene. Vuoi l'uno o il due? Due. Due, ok, ho capito. Vieni, Gaia. Vieni, Gaia. Guarda, ora fai le tue. Bravo, va il mio. No, mamma, non mi vuoi lanciare. Morri. Non mi vuoi lanciare. Non vanno. Lanciate le cose. Ti lascio in punizione fino a quando continui a lanciare le cose. Mi vuoi lanciare. S Drainess Rire. Ciao. Mi vuoi lanciare. No. Grazie.